secondo quanto riferito il principe william ha negato di aver incontrato il principe ferri mentre era nel regno unito in visita a re carlo dopo aver appreso della sua diagnosi di cancro il principe ferri potrebbe riunirsi con re carlo molto presto mentre si prepara per un'imminente visita nel regno unito poiché un commentatore reale sostiene che il re non ha mai chiuso la porta a suo figlio il duca di sussex ha avuto un rapporto teso con gli altri membri della famiglia reale da quando ha lasciato i suoi doveri reali e si è trasferito negli stati uniti con megan markle nel 2020 da allora il duca ha fatto una serie di accuse contro la famiglia reale in un'intervista di alto profilo con opera winfrey e nella sua do chiuserie netflix con megan nonché nel suo libro di memorie spero ma un commentatore reale ha ora affermato che ferri non solo potrebbe riunirsi con suo padre ma che potrebbe anche svolgere un ruolo chiave nel ricucire la sua relazione con il principe william richard fit williams ha detto che il re sta cercando di riconciliare le cose tra i suoi figli dopo che è stato riferito che william e la principessa kate hanno chiesto a ferri di portare i suoi figli nella sua prossima visita nel regno unito ha detto a gb news la spaccatura è molto profonda come tutti sappiamo i sussex da quattro anni attaccano la famiglia reale e william è naturalmente diffidente perché non si fida di harry è possibile che dal momento che re carlo non ha mai chiuso la porta dal momento che sono entrambi suoi figli e dal momento che due membri anziani della famiglia reale sono gravemente malati questo presenti uno scenario completamente nuovo un nuovo ponte il principe ferri tornerà nel regno unito per una cerimonia l 8 maggio presso la cattedrale di st paul per celebrare il decimo anniversario degli invictus games di cui ha contribuito a fondare fit williams ha detto che anche se si è trattato di un lavoro molto importante purtroppo sarà oscurato dalle voci sulla presenza di megan e sulla possibilità che ritornerà con re carlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti